Benvenuti ragazzi, io sono Ati. E io sono Atkins e questo è... I Due Terzi. Qui troverete gameplay, unboxing, prime impressioni e vlog su vari argomenti inerenti al nostro canale. I miei video usciranno il lunedì e il giovedì. Mentre i miei usciranno il mercoledì e il sabato. E la domenica il video insieme. Quindi se siete interessati iscrivetevi al canale. Commentate i nostri video e condivideteli. Vi aspettiamo sui Due Terzi. Ciao!